In 21 anni di attività giornalistica ho sempre ascoltato la gente, ho sempre dato voce a chi non aveva voce, ho avuto sempre una grande sensibilità verso gli anziani, verso persone che non venivano mai ascoltate e ho combattuto per loro. Per Taranto ho sempre lottato, non è solo il mio slogan, è la storia di 20 anni. Ho deciso di candidarmi sindaco perché sono stanco di vedere che tutte queste battaglie venivano non considerate, ignorate dalle istituzioni perché poi parliamoci chiaro, la politica se ne frega del grido dei cittadini. Ho deciso di candidarmi sindaco proprio perché sono un uomo del popolo, un uomo della strada che conosce le esigenze della città, dei cittadini. Mi trovo dinanzi all'arsenale, quindi nel pieno centro di Taranto e qui c'erano dei cassonetti. Era una posizione ovviamente idonea, ottimale per i cittadini, i quali soprattutto anziani, molti anziani che abitano in questi palazzi, vedete, in questi stabili che sono appunto stabili appartenenti alla marina militare, poi molti di essi riscattati e ci sono persone, tanti anziani, ripeto, che proprio per l'incedere dell'età hanno difficoltà a spostarsi e per loro era comodo andare a conferire i rifiuti nel cassonetto. Ora non so per quale scelta assurda, Chimambiente, Lamio, ha deciso di spostare altrove questi cassonetti e sono, ora i cassonetti sono stati appunto posizionati, spostati verso via Crispi, verso via Nazario Sauro, quindi a una notevole distanza da queste abitazioni. Nessuno sta dicendo che vuole il cassonetto sotto casa, che scende da casa e mette i rifiuti dentro, però viva Dio non è neanche giusto andarli a mettere i cassonetti chissà dove, lontano, considerando anche la tipologia di abitanti che vive in queste zone, persone anziane. Nessuno dice, lo ripeto, nessuno vuole il cassonetto sotto il proprio naso, però, viva Dio, fra poco andremo a finire al Ponte Girevole per lasciare i rifiuti ed è importante questo, lo dico, perché poi queste persone giustamente dicono, noi vogliamo essere cittadini garbati, cittadini modello, non vogliamo prendere i rifiuti e buttarli per strada perché non ce la facciamo a camminare, metteteceli nelle vicinanze. Ecco, questo è il mio modo di fare politica, ascoltare la gente. Io sono convinto che a giugno vinceremo le elezioni e con la volontà dei cittadini ribalteremo veramente Taranto come un calzino. Costituiremo un ufficio chiamato pronto intervento, sì, come se fosse un pronto soccorso, un SOS, un ufficio che raccoglie proprio in presa diretta, in tempo reale, le segnalazioni e immediatamente manda la squadra a intervenire. La buca, il marciapiede rotto, i cassonetti da spostare, in poco tempo, in una giornata, in uno o due giorni si risolve il problema, quei problemi che si possono risolvere in un batter d'occhio, come per esempio rimettere i cassonetti qui. Questo intendo fare da sindaco. Finora avete avuto un'amministrazione, mi riferisco all'amministrazione Melucci-Musillo, completamente assente rispetto alle esigenze del cittadino. Sì, pure Musillo, perché Musillo ha governato insieme a Melucci per quattro anni e mezzo, con sue persone di fiducia negli assessorati e nelle società partecipate. Un'altra Taranto è possibile, una battaglia a favore della gente. Sì, qualcuno potrà pensare che queste sono piccole cose, che sono sciocchezze. No, le piccole cose per il cittadino che ha difficoltà sono grandi cose e un sindaco deve dare risposte a tutti, soprattutto agli indifesi, ai più deboli. Questa sarà la mia missione. Grazie a tutti.